Se è vero che abbiamo abolito le province per ridurre anche i costi della politica, se noi introduciamo un'indennità a chi poi dovrà coprire questi ruoli, che sono già sindaci, quindi hanno già per i fatti loro la loro indennità, non abbiamo concluso nulla. Quindi noi non diciamo che non devono percepire assolutamente nulla, ovviamente gli spettano i rimborsi spese, le trasferte e tutto, ma ripeto, non prevedere un'indennità di carica è il minimo se l'intenzione di questo Parlamento, come è stato quando abbiamo approvato la prima legge, era di ridurre il costo e i costi anche della politica e ovviamente insieme ai vari obiettivi ottimizzare le risorse. Quindi noi lo manteniamo e riteniamo che sia fondamentale questo emendamento. Grazie.